Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Dalle immagini del satellite notiamo la presenza di una vasta perturbazione atlantica, la prima di una breve serie che coinvolgerà l'Italia nel corso del weekend, quindi avremo tante piogge temporali, soprattutto venti molto intensi. Ad inizio prossima settimana, quindi tra 23 e 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, avremo un rinforzo graduale dell'alta pressione delle azzorre che si sposterà verso est e spazzerà via le correnti atlantiche cariche di piogge temporali. Tuttavia la presenza di queste due figure bariche molto ravvicinate causerà un'intensificazione dei venti su tutto il centro-sud. Soprattutto nella giornata di lunedì ci aspettiamo venti molto forti di ponente maestrale su tutto il sud con raffiche localmente oltre i 100 km orari in Sicilia e in Calabria, venti più deboli sul resto d'Italia. Ancora qualche pioggio residuo a lunedì su Calabria e Sicilia, ma parliamo di fenomeni molto deboli. A seguire il tempo migliorerà ovunque, la giornata di martedì sarà stabile, ma ancora con venti sostenuti di ponente maestrale al sud in graduale indebolimento. Le temperature massime tra i 10 e i 14 gradi, minime tra i 6 e i 10 gradi. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.